Alcune località dell'Alta Valle Seriana in questi giorni vedono il sole scomparire dalle loro giornate, resteranno all'ombra per alcuni mesi. Si conosce soprattutto il caso di Val Canale, ma il fenomeno si verifica anche altrove. Sentiamo Mirko Bonacorsi. Malgrado l'autunno non ci abbia ancora riservato le basse temperature cui siamo abituati, per qualche paesino di montagna il calore del sole diventerà presto un flebile ricordo. È il caso dalla contrada d'ossi di Val Bondione, dove nella giornata di venerdì 6 novembre il sole farà capolino per l'ultima volta. Il piccolo centro abitato si torna infatti sul versante nord del Pizzo della Corna, che supera i 2300 metri di altitudine. Questo conta una quindicina di abitanti, alcuni di più durante il fine settimana. Il ritorno del sole è invece previsto nei primi di febbraio, appena trascorsi i giorni della merla. La data è però variabile, poiché tutto dipende dalla quantità di neve che si trova ancora sul crinale del Pizzo della Corna. Uno spessore maggiore aumenta infatti l'altezza della montagna e di conseguenza il sole può ritardare di 3 o 4 giorni sulla data prevista. Una situazione analoga la vivono gli abitanti della località Casacorti, nei pressi del campeggio di Val Bondione, dove tuttavia il sole farà la sua ricomparsa qualche giorno più tardi, intorno al 20 di febbraio, dopo circa 4 mesi di assenza. In quest'ultimo caso sono però gli appassionati dello sci di fondo a gioire, poiché nei boschi circostanti si snoda la pista e le basse temperature garantiscono una condizione di neve sempre perfetta anche grazie all'impianto di innevamento artificiale. Viste le caratteristiche tecniche, da alcuni anni il tracciato è inoltre ottenuto dalla Federazione Italiana l'omologazione per ospitare gare di Coppa del Mondo. Grazie. 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 Grazie.